L'arte di Angelo Capoccia in mostra a Lecce al castello di Carlo V dal 7 dicembre al 6 gennaio. Si tratta di 37 opere in cartapesta ma anche in marmo e in terracotta che ancora oggi testimoniano un patrimonio di indubbio valore e originalità del grande maestro leccese scomparso nel 2000 a 91 anni dopo una vita trascorsa nella sua bottega in via Filippo Turati a Lecce, vero Tempio della Cartapesta Leccese. La mostra personale di Angelo Capoccia dal titolo retrospettiva è stata curata dal nipote Angelo Capoccia Junior. Artista di caratura internazionale Capoccia e la sua opera sono espressione dell'arte nel mondo. Il nuovo stile da lui inaugurato fu quello dell'incompiuto, ossia della scultura cartacea proposta allo stato della focheggiatura ricca di suggestioni cromatiche ove il colore è calore, aura della memoria dell'antico. discendente meraviglioso dei grandi come Maccagnani, Manzo, Guacci, De Lucrezzi e altri ha impresso la sua leccesità sui volti, nelle braccia, nelle vesti dei suoi personaggi. Pastori, madonne, angeli, donne, bambini sentivano il calore delle sue mani di artista che modellavano creature della sua gente e del suo mondo interiore. Vasta è la produzione di Angelo Capoccia, tanti premi e riconoscimenti in ogni parte del mondo. Le sue opere oltre che in Italia si trovano in Giappone, Brasile, Australia, a Malta, Tripoli, a Francoforte e a New York. Per ammirare le opere di un artista così poetico e creativo, l'appuntamento è ogni giorno dalle 9.30 alle 20.30 nelle sale del Castello Carlo V a partire dal 7 dicembre. Una mostra della storia della nostra città, una mostra della nostra arte, delle nostre tradizioni, dell'arte della cartapesta ma non solo. Dell'arte di un maestro che è necessario tramandare e raccontare alle nuove generazioni e non solo ricordare perché la cartapesta ha portato lecce nel mondo e oggi il maestro ha portato lecce nel mondo e noi oggi gli diamo un giusto e dovuto riconoscimento come amministrazione ma speriamo che questo sia un modo per promuovere la nostra arte nel mondo e in tutti gli eventi che ci saranno. Io con grande contentezza presento questa mostra, una mostra voluta da tempo che finalmente siamo riusciti a realizzare non solamente per un fatto personale perché magari molte persone potrebbero pensare questo ma per un regalo alla città di Lecce e la mostra sarà una selezione di 37 opere pubbliche e private e di altri collezionisti accuratamente scelte da me.